Siamo qua con Guido Addone, uno dei candidati della lista Giovanni Ferrari Sindaco, una delle priorità della lista sarà sicuramente comunque il rilancio del commercio, comunque il commercio come base del futuro di Finale Ligure. Certo, i punti che abbiamo preso in considerazione sono tantissimi, senza dubbio il rilancio del turismo, come avrai avuto modo di capire, è trasversale a tutto il nostro programma elettorale. Quello che tengo a precisare è che abbiamo individuato nel regolamento del commercio comunale degli articoli che sono sicuramente dei paletti che impediscono al privato di poter gestire o comunque poter creare dell'intrattenimento. Su questo saremo molto chiari nel cercare di modificare nel miglior modo possibile questi articoli o quando addirittura non eliminarli completamente e rimettere un po' finale in mano ai finalesi. Questo potenziando anche la possibilità del Comune di avere il contatto più diretto con degli uffici preposti per risolvere le varie problematiche. Poi un'altra cosa alla quale teniamo tanto e pensiamo di riuscire anche a mettere un limite è la lotta all'abusivismo, su quello siamo tutti convinti. Abbiamo individuato dei punti ben precisi per poter fare qualcosa di concreto, cosa che fino ad oggi purtroppo non è stato possibile fare. E comunque la parola d'ordine è mettere in condizioni il finalese che so che ha le possibilità e la voglia di fare, di fare.